Ciao da Francesco Nano, bentrovata o bentrovato sulla videoguida di scuolasuono.it relativa al plugin URSA10 che è un equalizzatore a 10 bande. Questa videoguida è stata realizzata dal mio amico Gabriele Cento che ha realizzato diverse altre interessanti videoguide su scuolasuono.it. Desidero invitarti a vedere, a guardare con attenzione sia questo spezzone di video ma anche la parte approfondita nella quale Gabriele spiegherà molti dettagli relativi a questo plugin ma soprattutto desidero invitarti a proporti come video recensitore dei tuoi plugin o delle tue attrezzature sia audio che musicali quindi anche strumenti musicali per postare assieme a noi nuovi video da incorporare nel canale youtube e nel sito di scuolasuono.it. Inoltre se vuoi integrare con le tue conoscenze o con dei link interessanti o con degli altri video relativi a questo plugin la spiegazione di Gabriele Cento non devi far altro che copiare i link ed incollarli all'interno del sito scuolasuono.it nella pagina relativa a questa video recensione. Per il momento è tutto ti saluto ciao da Francesco Nano alla prossima videoguida ciao. Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Sono Gabriele Cento, vi parlo dal mio home studio di Milano. Puoi visitare la mia pagina profilo scuolasuono per ulteriori dettagli. Nella videoguida di oggi parleremo dell'URS A10. Di cosa si tratta? L'URS A10 dove URS sta per Unique Recording Software è un equalizzatore grafico a 10 bande concepito per unire sonorità vintage a controlli di tipo moderno. Supporta praticamente tutti i formati per la nostra DAV. Abbiamo l'RTAS, il TDM, il VST e altri. Può gestire frequenze di campionamento fino a 192 kHz, quindi direi estremamente potente. Può essere utilizzato sia in mono che in stereo e naturalmente sarà possibile collocarlo dove più avremo necessità. Quindi gli insert, le mandate ausiliarie oppure direttamente su un canale master. Alcune delle funzioni diciamo più importanti di questo plugin sono i meter di ingresso ed uscita con annessi i rilevatori di clip. Quindi ci aiuteranno sempre a mantenere il giusto equilibrio per i nostri segnali. Il tasto per l'inversione di fase, il tasto per il bypass e il fader, anzi i fader per il controllo di segnale in ingresso e in uscita. È un equalizzatore veramente molto bello, estremamente potente e strausato in diversi tipi di produzioni. Come vedremo successivamente può essere adattato a qualunque tipo di traccia, quindi di strumento o di voce eccetera. Dicevo vedremo nel video di approfondimento nei dettagli le funzioni principali di questo plugin. Proprio in questo video scoprirai tutte le caratteristiche che appunto lo rendono indispensabile. Ti ricordo che per accedere a questo video dovrai effettuare la registrazione gratuita.